Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola di oggi. La Ferentina non è convinta di Tatarusano dopo aver scelto il secondo portiere che arriverà. Questa è la notizia per circa 2 milioni di euro, non 3, non 4 come si era letto da qualche parte. Il giovane polacco del quale Corvino ha moltissima stima arriverà a fare il secondo. Probabilmente potrebbe anche essere ceduto in prestito, vedremo, ma la Ferentina sta cercando di capire se puntare o meno su Tatarusano per il futuro. Sicuramente l'Europeo non lo sta mettendo in mostra, anzi sta mettendo in mostra alcune lacune, alcuni problemi che ha il numero 1 Viola. Se arrivasse un'offerta la Ferentina potrebbe fare un'ottima plusvalenza, ricordiamo che Tatarusano è arrivato a parametro zero e che la Ferentina oggi potrebbe guadagnare sicuramente qualche milione di euro importante. Ci sono le alternative, Corvino pensa soprattutto ad alternative italiane, c'è Gollini ma ci sono anche altre idee, portieri che costano sicuramente qualcosa in più ma che sono nel mirino della Fiorentina. I prossimi giorni saranno decisivi in questo senso, certamente il nodo portiere non sarà sciolto prima della fine dell'Europeo, non sarà sciolto nei prossimi giorni ma probabilmente sarà lo stesso Paolo Sosa nel ritiro di Moena a decidere cosa fare, a decidere su chi puntare, a parlare anche con Tatarusano e capire se avrà le giuste motivazioni per continuare in maglia Viola. Il nodo portiere è comunque un nodo ed è comunque una questione da risolvere nelle prossime settimane. Non è una priorità ma per Corvino che sui numeri 1 ha sempre puntato molto è sicuramente un punto di partenza importante. A domani con i 101 secondi Viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.